signori e signori buonasera a te il risultato che abbiamo ancora il piacere di avere come ospite pregiato la poetessa dina piccolo che ci fa ascoltare alcune composizioni liriche io ti ringrazio armando cusano per questa presentazione e dedicherò a tutti quelli che sono in ascolto una poesia che è stata tradotta in tutte le lingue e si trova incisa tra le rocce della montagna di bassiano in provincia di latino ad oltre 2000 adesso come si chiama questa composizione amami adesso bellissimo il titolo è una fila è un messaggio dedicato a tutti coloro che si vogliono bene davvero amami adesso non dire domani amami adesso domani il mondo potrebbe sparire cancellato come un disegno infantile sull'immensa lavagna del cielo domani la vita potrebbe asciugarci come due lacrime amare smarrite sul volto del tempo e di noi non rimarrebbe più niente amami adesso domani potremmo dimenticare persino i getti da fare le parole da dire potremmo amalarci morire amami adesso cercami stringimi prendimi adesso perché questo momento ci appartiene davvero grazie grazie bravissima